In effetti è stato toccato il problema di via Alessandro Volta, dove si dice che questa amministrazione ha fatto tornare i fondi indietro, creando problemi e mancate economie a Carinaro. Penso che è stato già in passato detto, ma lo ripetiamo pure qua, i fondi sono tornati indietro perché si stava tentando di fare dei lavori su un territorio che non è del comune di Carinaro. La passata amministrazione bene fece a comprare una parte di quel territorio e non si era resa conto, probabilmente, erroneamente, non sto qui a dire le motivazioni, non aspetta a me farlo, che aveva comprato soltanto una parte che parta dal vecchio casello ferroviario fino ad una seconda traversa di via Pascoli e non oltre. Voglio dire, noi di fronte a quel problema dove in effetti la ferrovia ci aveva già rimproverati dicendo, scusate, ma come fate a fare i lavori su un terreno che non è vostro? Fateci capire, perché voi avete comprato esclusivamente una parte del nostro territorio. Correvamo soltanto il rischio che se fossimo partito con i lavori avremmo avuto il mancato finanziamento che era stato ottenuto dalla passata amministrazione, ma che poteva addebitarsi al comune, e non so se mi spiego, un milione e duecento e più mila euro al comune di Carinar significava creare un dissesto non indifferente, per cui abbiamo rinunciato alla cosa, a non fare i lavori, ma siamo tornati in regione dove ci siamo impegnati col funzionario a fare la rinvenienza economica dell'intero fondo perché in caso, mi spiego meglio, in caso che i comuni, come il nostro, che tornano indietro, non finiscono quei soldini, noi entriamo di nuovo in carreggiata e potremmo ottenere il finanziamento per fare i lavori fino alla strada che è di nostra proprietà. Quindi andremo a collegare tutte e tre traverse in maniera da avere quel circuito che mi pare che sia un po' appesantito da macchine e quindi voglio dire, creare il senso rotatorio intorno a lì sarebbe per noi una grande soddisfazione. Abbiamo comunque in atto altri tipi di lavoro, partiranno, stanno facendo la gara all'ufficio tecnico dell'apertura di via dietro al cimitero che è stato privato, i cittadini sono stati privati per un lungo periodo di tempo a non poterne usufruirne. Noi stanno già facendo i lavori, sia per l'apertura di via Garibaldi che poi si collega su via Cinquevie, diciamo quelle che porta al Palazzo Casignano, poi siamo in apertura già pure di buste di gara per quanto riguarda via Virgilio, per quanto attiene via Zara abbiamo avuto conferma del mutuo da parte della cassa e quindi partirà la gara a ore, non dico a giorni ma a ore. Quindi partiamo con questi tre lavori nuovi facendo i sottoservizi, rete idrica, rete fognante e rete elettrica con la strada completa. Mettere agli atti tutti i progetti dei sottoservizi in maniera che quando si interviene si cerca di capire, non così fatto magari facciamo una fogna, facciamo un cunicolo, facciamo un lavoro di impiantistica e poi non sappiamo dove è posizionato, avere agli atti tutta la progettazione di dove passano dei veri e propri grafici con i colori, una leggenda dei sottoservizi in maniera che chiunque poi va al Comune e deve fare un intervento su quelle strade che abbiamo rifatte può avere tranquillamente questa fotografia dei sottoservizi in maniera da spendersi al meglio e non fare danni come spesso può capitare. Partiamo poi adesso con la gara dell'impianto della pubblica illuminazione e quindi sta per scadere e va comunque rimodernato l'impianto come abbiamo già fatto in maniera parziale ovviamente ma su via 5vie dove stiamo avendo ottimi risultati da parte di Strini perché abbiamo avuto la possibilità di visionarli queste sere e ci sta a un impianto tutto a led che penso che va fatto soprattutto per un risparmio energetico e quindi meno inquinamento su tutto il territorio comunale. Queste sono le prime cose che teniamo in cantiere, potremmo parlare anche dei servizi sociali, penso che Carinario non è l'ultima ruota del carro ma voglio dire sta lavorando bene anche se si dice a volte tessere e le proprie sindaco mi ha dato questa delega, è una delega che sta funzionando credo abbastanza bene, l'abbiamo fatto con tante esperienze, abbiamo avuto modo di portare tanti servizi, stiamo facendo la gara per ripeterci per l'esperienza dell'autoteca che sarà sicuramente stata richiesta e quindi voglio dire stiamo andando avanti. Partecipiamo al bando che è uscito qualche giorno fa per quanto riguarda l'asilo unito quindi voglio dire se tutto va bene a fine mandato avremo anche l'inizio di queste altre opere che sicuramente si può mandare all'amministrazione targare della Provitola.